Anticipata la conferenza stampa tradizionale del prepartita del tecnico del Pescara Baby Pillon, c'è sabato l'importantissima trasferta di Venezia e dunque i biancazzurri sono già oggi in partenza e domani pomeriggio terranno la rifinitura a Mestre fuori dalla possibilità di essere della partita Campagnaro e del Sole così come Memusce che è squalificato ma per le ultimissime subito linea al poggio in diretta con il nostro Massimo Profeta. Grazie Carmine per la linea siamo qui all'appoggio con frezzo stampa di Bepi Pillon anticipata perché la squadra partirà domani in treno alle 10.30 nel pomeriggio si allenerà a Mestre sabato ore 15 Venezia Pescara. I risultati di ieri sono stati assolutamente positivi per i colori biancazzurri il destino nelle mani della squadra di Pillon ed è già una grande cosa tra l'altro squadra ormai ad un passo dai playoff che vale la pena ribadirlo e sottolinearlo non erano l'obiettivo di inizio stagione. Per quanto riguarda la condizione generale non partiranno Campagnaro, del Sole e lo squalificato Memuscei. Bettella oggi ha svolto lavoro differenziato, un problema di natura muscolare. Lo stesso Bettella ha detto che domani tornerà in gruppo per la seduta di rifinitura. Il Venezia nelle ultime 14 partite un solo successo. Lo scorso 13 aprile 1-0 in casa sul Foggia. La formazione di Cersei Cosmi, ex della Contesa, è terz'ultima in classifica, convive con l'imperativo di vincere. Ma anche il Pescara dovrà fare la stessa cosa. Ed ora ascoltiamo i passi più significativi della conferenza stampa di Bepi Pillon. È molto positivo da questo punto di vista, senza dubbio, nel senso che noi abbiamo messo non una firma, due firme, arrivare a questo momento di campionato e in questa situazione. Io credo che, insomma, di strada ne abbiamo fatta, adesso però siamo lì e bisogna tagliare il traguardo, nel senso che l'obiettivo va raggiunto. A me non piace mai parlare prima del tempo perché so com'è il calcio, perciò dobbiamo lottare e sappiamo che sabato per me è una partita molto importante. L'approccio deve essere giusto, cioè non puoi andare in campo molle, perché se andiamo molli loro hanno la forza della disperazione, perciò sarà una partita veramente tosta. Voglio vedere il carattere, la determinazione, voglio vedere squadra. L'abbiamo dimostrato nell'arco del campionato che noi quando siamo squadra possiamo giocarcela con qualsiasi squadra, quando giochiamo da squadra, quando invece vogliamo risolvere i problemi da soli non siamo in grado di fare questo. Noi siamo in grado che quando giochiamo da squadra siamo la squadra che può dare fastidio, questo è sicuro. Come sta Canutè? È in grado di giocare al primo minuto? Non c'ha i 90 minuti nelle gambe perché viene da due settimane di lavoro, perciò anche lui deve avrire, io credo che dalla prossima lui potrebbe essere pronto per essere impiegato dal primo minuto. In sintesi a Venezia con coraggio, perché sempre questa è la solita solfa. Voi mi potete sempre portare dove, io non voglio arrivare lì. Ve lo ripeto, ormai mi conoscete, io rispetto delle opinioni degli altri. però io sono convinto del mio lavoro che faccio, lo ripeto, vado avanti per la mia strada come ho sempre fatto e cercherò di dare il massimo per questa maglia perché io ci tengo molto. Così dunque il tecnico di Preganziol, ricordiamo sabato Venezia Pescara con inizio alle 15. Tutto dal poggio, la linea può tornare a te Carmine. Grazie, grazie Massimo.